Buongiorno ragazzi, anche oggi ci troviamo a dover risolvere un quesito di maturità con parametri. Questa volta dobbiamo trovare una funzione che soddisfi tre cose. Deve essere dispari, deve essere tangente nell'origine alla bisettrice del primo e del terzo quadrante e l'area compresa tra la curva e la retta che congiunge massimo e minimo deve essere uguale a un mezzo. Buon lavoro! Allora, in questo nuovo esercizio quesito di maturità dobbiamo trovare quei quattro parametri in modo da determinare l'unica funzione che soddisfa queste tre condizioni e dobbiamo trasformare le tre informazioni in equazioni che contengono A, B, C e D. Perfetto ragazzi, incominciamo come sempre a capire che cosa chiede il problema e come può essere fatta la nostra funzione da un disegno. Allora, prima di tutto io ho una funzione che è data da un polinomio di terzo grado. Riscriviamo qui il testo del polinomio e cerchiamo di capire come si comporta nell'intorno di più o meno infinito. Allora, ovviamente questa funzione all'infinito darà infinito come risultato e darà precisamente più infinito come risultato per x che tende a più infinito se A è maggiore di zero, mentre se A fosse minore di zero a meno infinito avrei più infinito e viceversa per x che tende a più infinito. Consideriamo, visto che noi non sappiamo ancora il segno di A, questo secondo caso e cerchiamo adesso di capire come disegnare la seconda informazione data dal problema. Innanzitutto la nostra funzione passa per O e quindi mettiamo un bel pallino verde sull'origine. Ma non sappiamo solo che passa per l'origine, sappiamo anche che in questo punto è tangente alla bisettrice del primo e del terzo quadrante. Disegniamo quindi una funzione che è tangente a questa retta proprio nell'origine. Questa può essere una possibilità. Adesso rappresentiamo una curva che soddisfa queste due cose, segniamo come n e m i due punti di massimo e di minimo e tracciamo la retta che li congiunge. La terza informazione data dal problema è che l'area tra la nostra curva verde e la nostra retta viola è uguale a un mezzo. Questa quindi è la terza condizione. Andiamo a riscrivere in altro modo la prima e la seconda. Allora la prima sappiamo che è dispari e questa volta affronteremo il problema in maniera diversa da un altro esercizio che dava la stessa informazione. e la seconda informazione è che y è uguale a x è la tangente al grafico nell'origine. Iniziamo subito con la prima. Abbiamo già visto in precedenti esercizi che dire che una funzione è dispari significa dire che la funzione è simmetrica rispetto all'origine. In altri problemi abbiamo applicato proprio la formula, cioè f di meno x è uguale a meno f di x. Oppure ragazzi possiamo anche vedere che essendo la funzione di cui parliamo un polinomio, allora un polinomio è dispari solo se contiene le potenze dispari della x. Questo ragazzi non funziona se io ho una frazione di polinomio, una radice, un logaritmo. funziona solo con un polinomio, tutto su un piano, come quello del testo dell'esercizio. Quindi nel nostro caso questo polinomio rappresenta una funzione dispari se e solo se b e d sono uguali a zero. Queste sono già le prime informazioni trovate, quindi la funzione da trovare si riduce a essere y uguale ad ax alla terza più c per x. Adesso utilizziamo la seconda informazione del problema, cioè che la retta y uguale a x è tangente al grafico della nostra funzione nell'origine. Quindi che cosa significa? y uguale a x è una retta il cui coefficiente angolare è m e nel nostro caso ovviamente con y uguale a x abbiamo esattamente che m è 1. Io so che se la nostra curva è tangente a questa retta, lo stesso coefficiente deve essere quello della nostra curva, cioè la derivata prima sostituendo al posto della x zero deve essere uguale a 1. Calcoliamo quindi prima la derivata. La derivata è data da 3ax2 più c. Sostituiamo 0 nella derivata prima al posto della x, otteniamo 0 più c e quindi otteniamo che c deve essere uguale a 1. Abbiamo trovato il valore del terzo parametro della funzione data dall'esercizio. Quindi la funzione che noi dobbiamo trovare ha equazione y uguale ad ax alla terza più x. Manca un unico parametro ragazzi e lo troveremo imponendo la terza condizione. Cioè l'area tra la nostra curva e la retta che unisce il massimo e il minimo deve essere uguale a 1 mezzo. Vediamo i passaggi. Devo trovare il massimo e il minimo della nostra funzione. Devo scrivere la retta che passa per questo massimo e minimo. Devo poi calcolare l'area che si trova tra la curva e la retta. E come ultimo punto devo porre quest'area che dipenderà da a uguale a 1 mezzo. E in questo modo trovo il valore dell'ultimo parametro che mi manca a. Calcoliamo la derivata prima. La derivata prima della funzione rimane 3ax2 più 1. Ora, se questa posta uguale a 0 mi deve dare due risultati, ci siete che a deve essere necessariamente minore di 0. Altrimenti non esisterebbero soluzioni in R. Con a minore di 0 trovi due valori che annullano la derivata prima che sono esattamente più o meno la radice di meno 1 fratto 3a. Queste sono le ascisse del punto di massimo e del punto di minimo. Andiamo a vedere quindi graficamente. Io ho il massimo e il minimo. La funzione è crescente tra questi due valori e decrescente all'esterno. Proprio come il disegno che abbiamo fatto. E queste sono le coordinate dei due punti. Punto di massimo e il punto di minimo. che sono relativi, visto che la funzione all'infinito assume valori infiniti. Dobbiamo adesso calcolare la y di questi due punti sostituendo questo valore nella funzione. E otteniamo, salto e passaggi ragazzi, 2 fratto 3 per la radice di meno 3a. Adesso dobbiamo svolgere il secondo passaggio. Devo scrivere la retta passante per il massimo e minimo. Per simmetria della funzione, la retta avrà equazione y uguale a 2 terzi x. Terzo passaggio. Devo finalmente calcolare l'area che si trova tra la curva e la nostra retta per il massimo e il minimo. Rifaccio qui un disegnino. Tiro la retta. Chiamiamo n e m i punti di massimo e di minimo. Io devo trovare quest'area. Ragazzi, l'area è simmetrica anche lei rispetto all'origine, quindi posso scrivere due volte l'integrale tra 0 e il valore, per esempio, positivo, radice di 1 fratto meno 3a, della mia funzione ax3 più x meno la mia retta 2 terzi x in dx. Mettiamo per capire meglio gli assi cartesiani. Quindi io sto calcolando solo l'area che si trova a destra dello 0 e la trovo facendo l'integrale sotto la curva blu tra l'origine e la retta verde e gli sto sottraendo l'area di quel triangolino che si trova sotto la retta viola. Questa differenza mi permette di calcolare proprio l'area che ho colorato e il per 2 mi permette di trovare anche il valore della somma delle due parti colorate di viola. Svolgiamo l'integrale, otteniamo 2 che moltiplica ax alla quarta fratto 4 più x alla seconda fratto 2 meno 2 terzi x alla seconda fratto 2. Semplifico e ricopio gli estremi di questo integrale definito. A questo punto vado a sostituire il valore dell'estremo in alto al posto della x, otteniamo a fratto 4 che moltiplica 1 fratto meno 3a al quadrato, è alla quarta quindi andata via la radice e devo fare il quadrato, più un mezzo che moltiplica 1 fratto meno 3a meno un terzo che moltiplica 1 fratto meno 3a. Non devo sostituire l'altro estremo perché ovviamente tutti i termini della funzione primitiva contengono la x e quindi sostituendo 0 vanno via. Andiamo a fare i conti all'interno delle parentesi quadre. Quindi ottengo a su 4 che moltiplica 1 fratto 9a quadro meno 1 fratto 18a, che è il conto degli ultimi due termini, uguale a 2 che moltiplica 1 fratto 36a meno 1 fratto 18a. L'area alla fine risulta essere uguale a meno 2 fratto 36a, ma quest'area deve essere uguale a un mezzo. Quindi semplificato ottengo meno 1 fratto 18a uguale a un mezzo e quindi il valore di a cercato è meno un nono e come vedete è negativo come avevamo supposto noi. La funzione cercata è meno un nono x alla terza più x. Come sempre andiamo a verificare l'esattezza della nostra soluzione utilizzando l'applicazione Desmos e disegniamo sia la curva che la retta tangente nell'origine e la retta passante per il massimo e il minimo. Ecco il disegno della nostra funzione. Scriviamo adesso l'equazione della bisettrice del primo e terzo quadrante e come vedete sono tangenti nell'origine. Disegniamo ora la retta due terzi x e vediamo se passa per il massimo e il minimo ipotizzato dalla nostra funzione con i valori compresi tra 1 e 2 e tra meno 2 e meno 1. Perfetto ragazzi, direi che abbiamo verificato di aver svolto bene l'esercizio. Per qualunque cosa scrivetemi, iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi e vi auguro buona matematica. Per qualunque cosa scrivetevi al canale, continuate a seguirmi e vi auguro buona matematica.